Andrea Farru sul terzo gradino del podio degli assoluti nazionali dei 50 Farfalla. Le emozioni dell'atleta e lo sport full time ai nostri microfoni. Dopo tanti anni di lavoro, sudore e determinazione, alla fine siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo che era la medaglia ai campionati italiani assoluti. Appena ho visto quel risultato sul tabellone non ci credevo. Una gioia immensa per me, per i miei genitori, per la società, una cosa proprio indescrivibile. Però sono contento perché c'erano due atleti che erano veramente preparati, Dotto e Codia, sono partiti per Rio, uno è campione di 100 stili libero, l'altro nel Delfino ormai ha vinto tutto e quindi per me è stato veramente un piacere stare lì sul podio con loro.